Ciao ragazzi, benvenuti a questo mio tutorial per acquistare il mio libro. Questa volta ho preso un tablet, piuttosto che un computer, e in realtà ho rubato il tablet dal mio figlio. Adesso vediamo insieme come poter fare per acquistare il romanzo. Allora, praticamente prendiamo questo tablet, quanto è bellino, e digitiamo su Chrome. Apriamo Chrome, oppure qualsiasi altro browser nostro, e una volta che siamo su Google, scriviamo molto semplicemente Bookroad. B-O-O-K-R-O-A-D, Bookroad. E andiamo a cliccare, vediamo cosa succede, ecco qua, sito di Bookroad. Eccolo qua, questo è il sito di Bookroad che si è appena aperto. Andiamo a vedere, praticamente, questo è, ci sono una serie di tutti i libri che vedete, che vengono pubblicizzati. E se voi date un'occhiata, meglio, c'è anche il primo libro che ho scritto, il primo libro della saga, Taiko, primo odore del destino. Ma adesso ci serve preordinare il mio romanzo, La guerra degli angeli, Taiko. Allora, quindi, praticamente, se vedete, a un certo punto potrete vedere che c'è scritto Campagne. Andiamo a cliccarci sopra. Eccolo qua, si è aperto Campagne, vedete? Andiamo a scorrere giù. Scorriamo, scorriamo. Questo lo possiamo fare tranquillamente anche con un telefono. Scorriamo, scorriamo. E se vedete, eccolo qua, qua c'è il mio bel libro. E, come potete vedere, mancano 97 libri alla fine della campagna di preordinazione. 97 libri è tantissimo, perché mancano una quarantina di giorni, se non è proprio arrivato. Quindi, praticamente, clicchiamoci sopra. Si sta aprendo. Eccolo qua. Allora, questa è la schermata del mio libro. Vediamo un pochettino qua. C'è il titolo, La guerra degli angeli, Taiko. Se noi scendiamo, vediamo tutte le informazioni. Qua potete leggere un estratto del romanzo. Qua c'è la mia bella fotografia. I commenti da parte delle persone. Ma a noi, quello che interessa in questo momento, e molto velocemente, è questo pulsantino che sta qua. Lo vedete? Questo sarebbe il prezzo di copertina. C'è scritto 14,90€. Ok? Allora, prendiamo questo qua. Ci clicchiamo sopra, così. Pup! E si apre la schermata che ti richiede le informazioni di spedizione e le informazioni per quanto riguarda la nostra carta o, magari, informazioni riguardo PayPal. Allora, facciamo una preordinazione vera e propria del mio romanzo. Eccoci qua, vedete? Praticamente ci andiamo a inserire tutte quelle belle informazioni. Per esempio, dettagli di fatturazione. L'indirizzo email assolutamente importante perché l'indirizzo email servirà per la ricevuta dell'acquisto. Qui è molto importante perché molto spesso le persone dicono a me, guarda, 14,90€, poi 5€ in più di spedizione, mi dispiace, il libro non lo compro. Non vi preoccupate? No. C'è la spedizione gratuita, piego di libri, offerto da Poste Italiane. Vi assicuro che funziona benissimo perché abbiamo già abbondantemente sperimentato con la precedente preordinazione del primo romanzo, Taiko Primo del Destino. Gli altri scrittori mi hanno detto che funziona benissimo, non c'è problema. Spedizione gratuita, state tranquilli. Allora, scegliete la spedizione gratuita a 0€. Ed è qui. Ecco qua. Perfetto. 14,90€. Adesso avete la possibilità di pagare con carta di credito o con Paypal. Io personalmente scelgo Paypal. Torniamo al sito del commerciante. Eccoci qua. Alla fine uscirà questo qui, vedete? Questa schermata che vi spiegherà esattamente ciò che avete fatto, ciò che avete acquistato. Una volta che uscirà questa schermata, saprete che avete effettivamente acquistato una copia di Taikop, di La Guerra degli Angeli, Taikop. Andate, ve lo faccio vedere ancora una volta. Allo stesso momento riceverete anche un'email di conferma che vi spiegherà esattamente quello che avete comprato. Va bene? Manca pochissimo. 14,90€. Specialmente se avete comprato il primo libro. Io vi suggerisco vivamente di comprare il secondo perché... Per adesso vi saluto. Ciao.